Le auto storiche dei Carabinieri, fra le quali le Alfa Romeo, saranno in mostra a Cortona. L'appuntamento è per domenica pomeriggio, 29 agosto. Un tuffo nel passato, quindi. Saranno riproposti al pubblico i principali modelli di auto radiomobili dei Carabinieri degli anni Sessanta con la mitica Giulia T. Livrea Verde. La collezione è organizzata dagli amici dei lampeggiatori blu storici che hanno istituito pure un registro nazionale per questi autentici e pregevoli reperti. La Giulia, l'auto che ha davvero dato mobilità all'arma in versione verde-felce e con la Super Livrea blu-bianco, ma anche le Alfette e poi l'Alfa 90. E ci saranno altre auto, a sorpresa, come confide il dottor Mino Faralli del direttivo nazionale dell'Asi, l'ufficiale che dal 1980, anno del suo congedo, raccoglie e preserva questi autentici gioielli storici. Ricordiamo che le auto fanno parte del Museo Territoriale e dei Carabinieri, diffuso in tutto il territorio nazionale, la cui presidenza e sede espositiva principale si trova nella frazione cortonese di Fratta Santa Caterina.